sta chiedendo Iro se c'è un posto, ti ripeto no non mi picchiare da niente non mi picchiare da niente sono dicappato ok ci siamo tutti, picchiamoci vai no solo perchè sono niggas se no si ha il follower da incerto ah io sono quello rosso ragazzi, sono quello negro oh vinto bravo no no sono incollato vinciuto tipi, mi date una mano guardate come sono io grazie dai sono scollato quasi ok mi sono intrappolato nella mia stessa colla bravo intanto io ve l'ho lanciato dei serpenti prendi la k uccide ma sei scomiglia oddio dove sono ragazzi dove sono ragazzi sono glitchato nel terreno no tu sei no sei letteralmente vivo eccomi no adesso sono morto eccomi no adesso sono morto ma la minigun si va bene matteo vai 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 no no mi piacciono le boss face ciò è il conto davvero dov'è finita è ho ammazzato qualcuno sono sopra il ragazzo il ragazzi non ti si vede il ragazzo il ragazzo il ragazzo Ah! Serpento lì! No! No! Sì! Ma io ora mi dite come fa Federico a spammare roba a casa e vincere ogni volta. Buona Federico ha delle acque.